Il rumore della porta che sbatteva mi è rimasto in testa per anni. Continuavano ad arrivare i medici, mi entravano e uscivano tutti quanti. A un certo punto è entrato un dottore, mi ha detto la mamma non ce l'ha fatta. Un bambino è salvo, ma solo qualche problema. Chi si è preso cura di suo figlio? Io non l'ho nemmeno voluto vedere. Ho incontrato per la prima volta tre giorni fa. Quanti ariai stasera? Quanti venerai? Mamma mia, quanti non ne vuoi più dire? Forse non ne vuoi, ma dire. Ti ho pensato, sai, stasera. Ti ho pensato, vuoi? Tu, la sfiga, mi ha telefonato lei per prima. Non ho saputo di chi non sai che sboglia c'è. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Shabbatone. Tu, 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 tu.